Ancora un arricchimento per le residenze napoleoniche di Portoferraio, una collezione di 26 tra stampe, acquarelli e disegni sono stati dati in comodato gratuito da Renata Frediani, collezionista antiquaria lucchese e rimarranno in esposizione nei musei elbani per i prossimi 5 anni. Hanno tutte cornici coeve, sono tutte praticamente della prima metà del XIX secolo, tranne alcuni esemplari che si caratterizzano invece per originalità e che sono successivi e che diciamo rientrano un po' nella scia del culto, della personalità di Napoleone. In particolare la stampa che è alle mie spalle, che è la Dio Fontainebleau, è particolarmente importante per la storia di Napoleone all'Elba perché è proprio il momento in cui il 20 aprile del 1814 Napoleone lascia Fontainebleau per raggiungere l'isola d'Elba. La collezione è il risultato di una costante e rigorosa ricerca professionale selezionata per l'importante valore storico e artistico. La firma del contratto questa mattina a Villa De Mulini. La decisione è arrivata perché abbiamo organizzato con la dottoressa Martinelli, il direttore dei musei, una mostra all'Elba. In quell'occasione mi ha chiesto in prestito queste stampe per rendere più preziose le stanze dei musei. Quando abbiamo sistemato queste stampe abbiamo visto che il museo ne aveva guadagnato, era stato valorizzato. Quando la mostra è finita era arrivato il momento di toglierle dalle pareti. Per cui abbiamo provato tanto a staccarne una e abbiamo visto che l'arredamento scadeva un po' tutto l'insieme anche nel contesto degli arredi. Allora ho pensato appunto di fare questa scelta, di darle incomodato, cioè di consegnare al museo senza l'acquisto, ma proprio così diciamo una pre-donazione in attesa di capire anche queste stampe come saranno tenute, se saranno apprezzate e poi dopo in un secondo passaggio magari di lasciarle definitivamente ai musei. Dopo la recente acquisizione dei nuovi arredi di epoca napoleonica, il direttore dei musei Roberta Martinelli e il sovrintendente Agostino Bureca continuano nell'opera di valorizzazione delle residenze. Noi vogliamo ridare alle residenze ilbane, come dire, quell'arredo e quei contenuti che avevano un tempo e questo lo stiamo facendo sia quando abbiamo la possibilità acquisendo dei mobili, degli arredi d'epoca e come in questo caso diciamo un'importante collezione di stampe. Voglio sottolineare che è un aspetto importante non solo del contenuto storico e artistico della colazione, ma dell'accredito che l'amministrazione ha avuto da parte del collezionista appunto della signora Renata Frediani, che ha affidato allo Stato un'importante collezione di stampe. Grazie a tutti.